Pallannuoto, l'Ortigia supera il Trieste che ha disputato una super partita. Chi si attendeva una bella partita di Pallannuoto combattuto fino alla fine non è rimasto deluso. Ortigia e Trieste in una piscina di innesima gremita di tifosi bianco-verdi hanno dato vita a un match bellissimo, molto notato, agonisticamente intenso, ma sempre corretto. Il modo migliore per continuare a promuovere questo sport è dopo lo spettacolo della Coppa Italia. Alla fine la spunta l'Ortigia che nel quarto tempo realizza lo strappo decisivo. La partita era iniziata bene per i bianco-verdi, apparsi subito concentrati e aggressivi, ma sfortunati nelle prime due occasioni, tre legni colpiti. Il risultato però lo sblocca il Trieste con l'ottimo Mladosic. Gli uomini di Piccardo reagiscono subito e prima pareggiano con Velkic in superiorità, quindi allungano con la doppietta di Ciccio con Demi, mentre il solito Tempesti chiude la porta. Nel secondo parziale il 4-1 di Vidovic sembra dirigere la gara dalla parte dell'Ortigia, ma non è così perché i Giuliani si riorganizzano e si aggrappano alla qualità dei loro stoccatori. Valentino, Inaba e Mladosic agguantano il pareggio con il quale si va all'intervallo lungo. Terzo tempo comincia con il Trieste che trova il nuovo vantaggio e spiega l'opportunità per l'allungo. Gli uomini di Piccardo allora ritrovano lucidità ed escono con forza realizzando un break di 3-0 con Vidovic, Ferrero su rigore e Rossi. Buliabasic però nella finale trova dal centro il gol del meno uno. Gli ultimi otto minuti sono emozionanti, uno scatenato Rossi segna una doppietta inframezzata dalla rete di Petronio e poi compie un intervento difensivo strepitoso impedendo ai Giuliani di tornare sul meno uno. A otto secondi dal termine poi Ciccio Cassia mette un incantevole sigillo finale sul match. Finisce 10-7 per l'Ortigia che prima della sosta consolida il terzo posto, più 6 su Savona e Telimar e più 10 sul Trieste.